Ehi ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Steph, e questo è GioGioKerman Roblox E andiamo subito a salutare i nostri 6 eroi del giorno Che per oggi sono Artan, Cataldoi, Johnny, Andrea, Dado e Cristian Ciao ragazzi! Grazie mille per la condivisione Vi ricordiamo che anche nell'outro saranno salutati altri 6 eroi Oggi siamo in una mappa epica Probabilmente ragazzi, questa è la miglior mappa mai fatta su Roblox Sarà di nuovo su una casa sull'albero Ma sarà qualcosa di totalmente diverso Prima di iniziare c'è da dire una cosa Ah, stavo già partendo Ok, ieri c'è stato il raduno ragazzi, il secondo raduno Purtroppo non è andato bene perché alcuni consolini non si sono comportati nel modo giusto Semplicemente abbiamo sospeso il raduno Abbiamo capito che quel tipo di mappa non la potremmo più fare Quindi niente ragazzi, ci saranno altri raduni come sempre Di sicuro non sarà cosa fermarci Quindi non è successo nulla di grave e continueremo a farne come sempre Ma certo, continueremo sempre Comunque, volevo dire subito una cosa Che già dall'interfaccia di gioco, vedi che qui in basso abbiamo i soldi È molto diverso rispetto a un Tycoon solito Esattamente È stranissima In questo momento è notte quindi non credo che si veda molto il nostro alberone Che è quello qua davanti Abbiamo una freccia da seguire che ci indica appunto dove andare Seguo te, seguo te Ignoro la freccia e seguo te E adesso credo che noteremo subito quanto è diverso questo Tycoon da tutti gli altri Io ho visto giusto qualche immagine e sono rimasto scioccato È davvero qualcosa di epico Allora credo che dobbiamo salire in queste scale Sì, vedi che mi mette la freccia qua Perfetto Ok, vengo anch'io Ok, questo è il tuo Treehouse Vedete già questi messaggi così giganti sono già qualcosa di diverso al solito Lo dobbiamo costruire, lo dobbiamo decorare e lo possiamo condividere Ok, allora quindi mi è comparso un tasto Prime piattaforme per iniziare a espandere la casa Guarda Sì, 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 esatto Bello Io non vedo l'animazione, l'ho vista direttamente apparire Ho visto tutto dal tuo monitor, è bellissimo Ok, in questo momento avete visto, avevamo 20 silver e li abbiamo finiti per costruire questa cosettina Adesso ci chiede di costruire un Harvester Che credo che sia qualcosa Per tagliare la legna, per tagliare la legna che poi ci servirà per la casa sull'albero sicuramente O ci dà soldi in qualche modo Esatto Proviamolo subito, proviamolo Io la piazzo qua Ok Guarda adesso che ti compare Praticamente noi adesso credo che azioniamo Ok Non ci credo Non ci credo, guarda dal mio schermo Le mele La legna? Ah, le mele No, le mele, le mele Che strano, è bellissimo Prende una mela ogni tot secondi e ci dà 1.33 gold Prima di tutto è diventato giorno Abbiamo finito il tutorial Finalmente E siamo pronti Allora, io non ti voglio far impazzire urlando Perché so che la farai No, no, stavo già guardando Non ti preoccupare Dimmi che hai visto i dirigibili No, dove i dirigibili? Aspetta, aspetta che mi metto qua Oh mio Dio Sì Ma dimmi che possiamo andare in giro col dirigibile Credo Ragazzi, guardate le case che hanno gli altri Tipo quella dove ci sono i dirigibili È enorme E hanno due dirigibili parcheggiati Quella a fianco è gigantissima La vedi quanto è alta È bellissimo Epico Siamo nella mappa più bella di sempre Allora, dobbiamo andare a vendere mele Vieni a darmi una mano Praticamente cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare negli alberi con le mele Queste qua Dobbiamo cliccare Così il nostro personaggio le acchiappa Vedete A quel punto le lanciamo dentro la cesta Ok, perfetto Ne accumuliamo tante E le vendiamo Facile, facile Dobbiamo fare un sacco di soldi, eh Quindi mi raccomando Sì, assolutamente Perché allora I silver abbiamo capito che servono per la costruzione della casa Sì I gold Per comprare altri tipi di cose che ancora non abbiamo capito bene Però ci hanno detto che servono comunque per comprare qualcosa Dovremmo frugare meglio nel negozio e capire cosa possiamo comprare Esatto Quello che dobbiamo fare per ora è appunto fare tanti soldi Allora, raccogliamo mele come se non ci fossero domani Esatto Andiamo a venderle, dai Ci siamo capiti subito Ok È il momento di combinare Devi trasformare le mele Guarda Devi metterle Questi sono i poteri tipo Star Wars No, ma vedi Almeno è comodo Perché così poi non devi portare tutte le mele una a una nel negozio Se no devi fare duemila viaggi Invece così ne porti una gigante che vendi Ed è perfetto Vai, 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 vai Allora, aspetta che sto cercando di prenderla È pesantissima Ok Guarda che mele gigante che ho È più grande della mia mano È più grande della tua mano È grande quasi quanto la tua testa Quindi stai vendendo una mela che è grande quanto la tua testa Salve Voglio venderle la mia mela Ok, la sta analizzando perché adesso ci dice quanto vale Deve capire sì quanto vale Se è di buona qualità Pagaci bene Magari gli hai portato mele marce 10 mele l'una da due Quindi 20 silver Tutte queste Io direi che non è male E guarda che un po' te li devi sudare Diciamo che non pagano tantissimo Evidentemente è molto lento Devi proprio stare a farmare e costruire Le cose che piace fare a me insomma Dobbiamo rubare a qualcuno perché è troppo lento Allora torniamo un attimino nella nostra casa E vediamo se possiamo fare qualcosa, ok? Un consolino ci sta portando tramite il suo furgoncino Ci ho spiegato anche tantissime cose E ragazzi questo tycoon è davvero meraviglioso Però non funziona bene con noi sopra Prova a venire più avanti L'ho notato Forse siamo troppo pesanti Siamo troppo pesanti e non riesci a camminare Signor maialino pesa troppo Ci ha spiegato praticamente che ci sono tanti tipi di frutte, ok? Ok, di frutta Di frutta E più le troviamo rari immagino Più valgono silver Che sono le cose che attualmente dobbiamo fare Ok, vedi sì, funziona un po' come Aspetta, aspetta, aspetta Ti dicevo, è proprio come l'Humberty Coon Che anche lì ci sono tipi diversi di legna Che ti danno più o meno soldi In base alla loro rarità Qui ovviamente stiamo raccogliendo frutta Quindi si parla della frutta Cosa sono? Sono le bacche, le blueberry Le blueberry Che poi sarebbero No, non sono lamponi Non mi ricordo Le confondo sempre Quindi io non oso dirlo Uuu, hai visto come le raccoglie da cespuglio È carinissimo Ascolta, raccogliamole tutte Vai, 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 dobbiamo fare un sacco di soldi Butto, clicco su di lui Ok, dai Dimmi 100 Poi vieni fuori che ti butto questo Perché ho paura di sbagliare E di venderlo da parte tua Ho paura di sbagliare 13 che valgono 5 l'1 65 silver Eh dai, è così che si ragiona Bello, vedi? I blueberry pagano bene Ci hanno portato in un posto lontanissimo ragazzi Ci si può arrivare solo in macchina Perché è davvero lontanissimo Sì, stiamo viaggiando da troppo tempo Ma guardate tutti gli alberi di arance Cioè, fatti vedere, fatti vedere che io già li vedo dal finestrino Che cosa buona È fantastico Mi è venuta voglia di mangiare un'arancia Di mangiare un sacco di frutta perché davvero Mi sta facendo venire fame sto gioco Chissà quanto valgono Essendo così lontane sicuramente Dove le mettiamo? Dove le mettiamo? No, aspetta Beh, mi sembra giusto Cioè, andare avanti Guarda cosa fa Momi Guarda, eh, adesso Lui le prende Oh mio Dio Guardalo, eh Adesso ne prende una E lui la lancia direttamente nel cofano della sua macchina Se ho visto bene Guarda Vedi? Sì Ah, ho capito Ce le puoi mettere anche direttamente lì E puoi cambiarle dopo Beh, anche quello sì Vedi, allora visto che si possono mettere nella macchina Questa è la conferma È la conferma che almeno li possiamo mettere Wow Mi stava succedendo qualcosa di strano Quindi Tipo? Non lo so Non lo so, vabbè Qualche dialogo No, mi stava dicendo che non potevo fare quello durante il tutorial Però pensavo, ho capito Fosse per raccogliere arance Ma le stavo raccogliendo che hai fatto un palloncino gigante Ho fatto un pallone Ho fatto un pallone di arance Bello Vai, siamo pronti ad andare? Dai, 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 dai È il momento Vai, vai, vai Allora, appoggiamo il pallone Il pallone di arance, vai Gli chiamo su di lui Vediamo prima di tutte quante arance sono Allora, ok Ho fatto ok Vediamo quanto ci dice Undici arance e quattro l'una Come? Vale meno delle bacche, sì Vale meno delle bacche Forse perché le bacche, in effetti Se ci pensi, erano meno lontane Ma ne potevamo prendere meno Se ci pensi Invece di arance dici che era pieno Quindi, ma una delusione Lo so Io ero felicissimo Ho detto, cavolo, ci facciamo un sacco di soldi E invece no Vieni con me Vieni con me Perché adesso ci compriamo la macchina Quindi sinceramente Ok, c'è stata la delusione Però Possiamo comprarci la nostra macchina E questa è la cosa più importante Che poi Mi sono dimenticato di dirtelo Prendendo Gli altri tipi di frutta E tu fai degli obiettivi Che quando finisci Ti permettono di mettere I generatori nel tuo albero Per raccogliere appunto Anche gli altri tipi di frutti Capito? Ah, ok Quindi li puoi avere direttamente Nel tuo albero gigante È bellissima questa cosa Ti puoi fare Un'intera produzione Di tutti i frutti possibili Ok, dove sei? Io non lo vedo Perché non avendo fatto Ok, tranquilla Non avendo fatto il mio tutorial Non vedo le cose tue Vai, vai, vai Compra 75 silver Guardalo Oh, che bellissimo È una buggy Ma è da solo un posto È bruttissima A saperla O fosse come quella Come quella di momie Di croquet Che fosse Che fosse da quattro posti Invece è solo un po' Ho fatto una faccina triste Io adesso come ti porto in giro Mi metto qua Al posto della frutta Guardami Ma cado No Aspetta No, no Rimango Rimango Vedevo dal tuo Ho guardato il tuo monitor Ho visto che il mio personaggio Fluttuava Ho detto cado Invece poi ho guardato il mio Invece nel mio rimane fermo Esattamente dove l'ho lasciato Funziona Funziona Ok Vediamo quanto vogliono Questi cristalli Perché non lo so Farma come se non ci fosse Un domani che voglia la stanza Muoviti Uffa Non è colpa mia Non fare le vocine Non mi fai tenerezza Né a me né a signor Maialino Non fai tenerezza a nessuno Allora muori Oh mio Dio Ma questo posto fa paura Stiamo andando in una foresta tenebrosa Che cos'è questo posto Ma io non ci andrei mai di notte In un posto del genere Non lo so Magari c'è Slender No non me lo dire Guarda Hanno uniti dei giochi Sto chiudendo il gioco Te lo continui da solo Te lo dico guarda Mi sembra di aver visto qualcosa muoversi Aiuto Nelle ombre della notte Non ci provare guarda Sto scappando via Gambe levate Guarda la discesona Ma è pieno ci sono di tutti i colori Bellissimi Bellissimi Oh mio Dio Allora Ma questo ci serve qualcosa Un piccone Cosa ci serve Non lo so io non li posso prendere Ah ok dobbiamo per forza prendere quelli piccoli No ecco allora sì Allora sì che ho capito Ma mamma mi me l'ha rubato Ma che cattivo Questi grandi probabilmente sono solo per estetica Un po' per illuminare la caverna Noi subito puntando alle cose gigantesche Con invece dobbiamo prendere i piccolini Siamo piccoli E in punti comunque abbastanza alti Quindi devi diciamo un po' scalare questa caverna Ho il presentimento che non faremo molti soldi questa volta Neanche secondo me guarda Neanche secondo me Guarda devi fare anche un po' di parkour Sì 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 Io sto guardando intorno Sto andando in un punto bullissimo Cosa stai facendo? Stai attenta che è pericolosa Non lo so Non riesco a prenderlo Aspetta Ti prego Ok preso 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 Mi ho preso uno blu Sono indietro Vendiamo Aspetta vendiamo le cose Vendiamo i cristalli dai facciamo una cosa per volta Senza Senza fare un disastro Guarda li sto combinando Ok li vedo volare È gigantesco Io non lo vedo Guarda Oh mio dio enorme Hai fatto un mega cristallo Allora cioè Per un cristallo del genere Io voglio 100 Ci devi pagare benissimo 100 secchi Te lo dico altrimenti Ti spacco la faccia Vediamo Vediamo Dai 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 40 Non è male Allora Non è male In questa Io sto per dar fuoco alla città Perché sono tutti un po' troppo tirchi qui eh Non pensi anche tu Per chiudere il video ragazzi Abbiamo chiesto il favore al consolino Di farci salire Di farci salire sui suoi dirigibili Esatto Andiamo 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 Subito Ok Ho paura di cadere di sotto Ok Ci dobbiamo sedere? Non lo so Aiuto Io mi metto qua Ho paura di cadere Stiamo volando Sopra di vertigini Stiamo volando Fammi vedere Mi affaccio un po' Spero di non cadere Oh mio dio Stiamo salendo di quota Cosa sta succedendo in questo momento? Allora È molto lento Giustamente Perché i dirigibili Sono lenti Però sì Ci stiamo muovendo Guarda Io ho dezoomato tantissimo Guarda come siamo Io non riesco a dezoomare più di così però Ok ragazzi Per questo video ci fermiamo così Fateci sapere quindi nei commenti Se volete Una miniserie su questa mappa Spero di sì Perché secondo me È davvero La più bella di sempre E dobbiamo arrivare anche noi Ad avere una casa Gigantesca Ed epica Come questa Quindi fateci sapere nei commenti Speriamo davvero che la vogliate Anche perché è davvero lunga Sarebbe impossibile Finire in un video A meno che non giochiamo Per 40 ore di fila Cosa che tu vorresti fare Esatto Non vedo l'ora Non vedo l'ora Di iniziare la mia di casa Comunque Prima di finire il video Andiamo ovviamente A salutare gli altri nostri Sei eroi del giorno Che per oggi sono Blackwolf Giulia Chiara Andrea Davy Ghost Giampierre Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione Beh ragazzi Il video mi piace così Se riuscite lasciateci un bel like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdermi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 ciao